Una triste notizia ha sconvolto l'intera diocesi di Vallo della Lucania. È morto nella giornata di ieri Don Antonio Magliacane, 42enne, parroco di Rutino e di Matonti, a seguito delle complicanze conseguenti all'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma. Il giovane parroco era da tempo in attesa di un trapianto di fegato e proprio ieri la presenza di un donatore compatibile lo aveva spinto di corsa a Roma per sottoporsi al delicato intervento, mentre le comunità parrocchiali di Rutino e Matonti erano in preghiera per accompagnare il lavoro dei medici, è giunta la triste notizia dell'insorgere di severe complicanze operatorie che gli sono stati fatali. Nei mesi scorsi Don Antonio aveva raccontato la sua esperienza nella trasmissione di Cilento Channel, Eccomi, condotta da Vito Rizzo, nella quale era emersa la profonda serenità che lo stava accompagnando nel difficile cammino di dolore e sofferenza. E' un anno che la salute, diciamo, si fa un po' sentire di meno. Però mi ha mai scoraggiato questo aspetto della salute perché ho avuto fiducia e ho fiducia in Dio. Leggevo qualche tempo fa la lettera scritta da Giovanni Paolo II, è proprio la lettera agli ammalati, nel 99, proprio alle porte del Giubileo, dove dice che la sofferenza non ci deve allontanare da Dio, ma ci deve avvicinare perché può essere un momento di purificazione, non di castigo. Molte volte basta una febbre, basta un tumore, un cancro per dire Dio mi ha castigato. Invece no, perché se noi vediamo Gesù in croce, niente a che vedere con un cancro, con un tumore. Immaginiamo i chiodi nelle mani, nel costato e sui piedi, oltre che un tumore, una chemioterapia. Don Antonio Magliacane era nato a Nocera Inferiore e già da ieri sera, fedeli e con fratelli, si sono raccolti intorno ai familiari in attesa che venga resa nota la data dei funerali. La serenità che ha accompagnato Don Antonio sia ora motivo di fede e di speranza nella preghiera dei fedeli per il suo ritorno alla casa del Padre.